Il pacchetto bellezza va un po' a completare quello che era il pacchetto che chiamavamo di ringiovanimento. Nel pacchetto bellezza, oltre a tutti i massaggi classici che abbiamo visto prima, che producono di nuovo un acquietamento della mente, una coordinazione maggiore mente-corpo-coscienza e quindi la bellezza si esprime in una persona che ha uno stato integrato della coscienza, della mente e del corpo. Non è solo il risultato di un intervento chirurgico-estetico, ma è proprio il risultato di un'armonia profonda con il nostro sé. Quindi tutti i trattamenti che abbiamo anche esaminato prima hanno questa finalità di ripristinare questo intimo contatto mente-corpo-sé, coscienza, In questo pacchetto uniamo dei trattamenti più prettamente estetici, come le maschere, l'applicazione quindi di queste polveri a base di piante medicinali che hanno una spiccata attività sulla struttura e la compattezza della nostra mente, come per esempio la mimosa pudica, che ha questa caratteristica peculiare di chiudersi le foglioline quando viene toccata da una persona. Quindi questa sua pudicità in realtà prelude al fatto che questa pianta, quando è presente nelle polveri delle nostre maschere, dà un'estrema capacità di riduzione della secchezza e delle rughe della nostra pelle.